Ancora gravi problemi all'ospedale civile di Agropoli, infatti sta facendo discutere il caso di una bambina di due anni arrivata con una ferita alla testa a cui non è stata data assistenza. La bimba che era stata accompagnata dai nonni per via della mancanza di chirurghi al pronto soccorso e di una sala operatoria non è stata curata. I medici presenti non hanno potuto fare altro che consigliare ai familiari di spostarsi presso l'ospedale di Vallo della Lucania. Non è stato possibile nemmeno chiamare un'ambulanza per il trasferimento al pronto soccorso di Vallo essendo impegnata altrove. Infatti la bambina è stata trasportata in auto dai familiari presso il nosocomio vallese dove ha ricevuto le cure necessarie. Ormai è evidente sotto gli occhi di tutti che il pronto soccorso di Agropoli non è in grado di offrire i servizi necessari per mancanza di personale e di strutture attive. Se non è possibile offrire tutte le prestazioni non dovrebbe chiamarsi pronto soccorso. Cosa sarebbe successo se avesse avuto una patologia più grave. Questa è l'accusa di un familiare della bambina ferita. Intanto le polemiche non mancano e l'opposizione agropolese si fa sentire. Il consigliere d'opposizione del Movimento 5 Stelle, consolato a Natalino Caccamo, accusa duramente la politica locale e nazionale. Per l'ospedale, serio e attrezzato, abbiamo sbattuto a tutti i libelli. Avevamo avuto mille rassicurazioni. Doveva venire il dottor Sileri, allora presidente della Commissione Sanità Parlamentare. Da quando è però diventato vice ministro è scomparso anche lui. Intanto sarà in zona il presidente Conte e andrà in visita all'ospedale di Vallo della Lucania passando diritto per Agropoli. Ha parlato della vicenda anche la consigliera d'opposizione Gisela Botticchio della Lega, che ha definito la struttura ospedaliera agropolese il nulla. Non capisco perché ancora compaiono queste targhe pronto soccorso. La bimba è stata portata qui dai nonni che immaginavano di trovare ciò che rappresenta questa scritta. Il personale è stato impossibilitato a dargli i punti di sutura. Inoltre mancava anche l'ambulanza per trasportare la piccola Vallo. Questo posto rappresenta il nulla. Le polemiche sull'ospedale ci sono sempre e i punti di domanda su questa struttura fantasma continuano ad aumentare giorno dopo giorno.